Terribile notizia che è trappelata sui social. L'attrice ha perso la vita nel terribile terremoto. Ciao a tutti. Oggi vi voglio informare di una notizia che ci ha un po' scosso tutti, ovvero della morte di Emel Atici e di sua figlia Purian Atici, che hanno perso la vita a causa del potente terremoto che ha colpito il paese turco qualche giorno fa. La serie televisiva Terra Amara, di cui Emel era una componente importante del cast, ha diffuso l'annuncio con profondo dolore, ricordando la sua abilità nel dare vita al personaggio di un'amica di Sermin. La società produttrice Team SB ha espresso la propria tristezza, o meglio il proprio cordoglio per la perdita dell'attrice, che ha interpretato il ruolo nei panni dell'amica di Sermin nella quarta stagione della serie. Anche il resto del cast ha espresso il loro cordoglio, unendosi così al dolore della famiglia e degli amici di Emel, in questo momento così drammatico. Inoltre, l'attrice Yelix Dagmalazir ha pubblicato un post molto commuovente in cui ha espresso il proprio dispiacere per la scomparsa di un'amica e una collega, descrivendola come una persona dal grande cuore e dalla profonda passione per il suo lavoro. La scomparsa di Emel Atici e di sua figlia ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di coloro che l'hanno conosciuta e ci stringiamo intorno alla loro famiglia e a tutte le persone colpite dal terremoto. Invitando loro le nostre più sincere condoglianze, prendiamo questa triste occasione per ricordare l'importanza di valorizzare ogni momento della nostra vita e di apprezzare i nostri cari sempre.